Buonasera, prima parlavamo in privato, non vorrei usare degli aggettivi troppo forti, sembravi quasi disperato, disperato no? Disperato no perché non gliela darò vinta alla peggiore classe politica che sta gestendo il più difficile momento economico e sociale, penso, dal dopoguerra ad oggi. Quello che noi stiamo vivendo in questo momento, Carlo Stefano lo dicevi prima, è un momento dove magari nelle periferie paradossalmente si lavora, o nei piccoli borghi si lavora meglio e con più tranquillità, ma nei centri storici, e non parlo soltanto di Roma, Firenze, Venezia e così via, parlo anche di Viterbo che è una piccola città che comunque campa di turismo, parlo di Orvieto, parlo di tante realtà delle famose piccole perle italiane che avendo anche una frenata brusca su quello che è il turismo di prossimità, durante la settimana praticamente non facciamo una lira e quindi ci conviene per paradosso stare chiusi dal lunedì al giovedì e aprire soltanto venerdì, sabato e domenica, anche perché sai bene e non si parla di caro bollette, ma di salasso bollette, che avere la bolletta triplicata, quadruplicata e accendere un forno, accendere l'iscaldamento, chiamare in opera i ragazzi e così via per fare 12, 13, 14, se va bene 20 coperti è un bagno di sangue, quindi è meglio stare chiusi dal paradosso piuttosto che stare aperti e rimetterci i soldi. Dicevo la peggiore classe politica, perché? Perché tu hai detto giustamente in tutta Europa si sta andando nel verso opposto dell'Italia, in Italia si continua a instillare questa paura nella testa degli italiani che con tre dosi, tre dosi, questo super green pass fantomatico, nonostante questo stanno a casa, che significa? Che o hanno cambiato le abitudini e quindi in buona sostanza le multinazionali del delivery festeggiano perché almeno la gente mangia a casa, se le fanno consegnare a casa le cose, oppure c'è qualcosa che non torna e questa battuta d'arresto enorme della nostra categoria sa che cosa significa? Significa che noi non verseremo IVA, che non produrremo reddito, che non pagheremo tassa ai comuni, che si innescherà quindi un domino a ribasso sulla produzione di valore economico che alla nazione serve, che sarà devastante. Cioè noi oggi stiamo gestiti nella nostra libertà di impresa da quattro scappati di casa che non hanno mai lavorato in vita loro, questa è la cosa più devastante. Allora un attimo solo, diamo qualche informazione perché come detto appunto Danimarca-Norvegia, non solo la Svezia che già aveva una traiettoria differente anche in periodi tra virgolette più difficili, hanno eliminato ogni restrizione. Dal 21 febbraio in Gran Bretagna verrà addirittura cancellato l'isolamento per i positivi. La Francia rinuncerà entro poche settimane al passaporto vaccinale che comunque era meno rigido che da noi. Un'intervista al messaggero il ministro del turismo Massimo Garavaglia, quindi della Lega, che dovrebbe essere appunto quello più aperturista per usare questo brutto termine, dice un'estate senza Green Pass è possibile. A giugno via il certificato verde. A giugno. Cioè questa è la cosa che io non capisco, perché in Francia lo toglieranno tra due settimane e in Italia si dovrà togliere a giugno? O da noi il virus è diverso o siamo come popolo, siamo fracichi, non lo so, siamo più suscettibili alle infezioni. Non lo so, non trovo una giustificazione, scusa Paolo. No, no, è evidente Stefano che ormai Green Pass non è più una soluzione di tipo sanitario ma è una soluzione di tracciamento sociale degli italiani. Devono sapere quante volte vai in banca, devono sapere quante volte vai alle poste e, gravissimo, gravissimo, avere un conto corrente, un conto postale o ritirare la pensione e non poterci andare se non si ha in mano il Green Pass, vuol dire impedire agli italiani di poter andare a prendere i propri soldi. Cioè ci sembra un po' quello che è successo in Grecia quando hanno di fatto chiuso il banco mattata dalla sera una mattina. Cioè tu se non sei in possesso del Super Green Pass non puoi ritirare la pensione. Tra l'altro fammi aggiungere una cosa perché siccome mi è capitato proprio ieri, in banca ti fanno entrare uno alla volta, quindi spiegami a che serve il Green Pass, uno alla volta. Ma no, ma è quello che ho detto io quando ho introdotto la misura del Green Pass per ritirare la pensione per un anziano. Un anziano, partendo dal presupposto che la fascia over 65 praticamente è di fatto quasi tutta vaccinata, quindi è una misura di propaganda e basta. Ma quando tu fai entrare in maniera contingentata all'interno degli sportelli postali delle persone, ma che problema c'è? Così come dal 15 febbraio aver introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50 per andare al lavoro è un atto di discriminazione totale perché bastava continuare a tenere in piedi il sistema dei tamponi, visto che chi legittimamente decide di non vaccinarsi, si deve per la sua sicurezza, per la sicurezza di chi sta vicino avere almeno un tracciamento da tampone e si risolverà il problema. Invece qui secondo me con il Green Pass si va sempre di più verso un mezzo di controllo sociale. Questo è il motivo per il quale stanno dicendo di rendere il Green Pass illimitato. Questa roba significa avere il controllo sulla popolazione. Qui la Gestapo e il KGB, questa roba non l'avrebbero pensata così in maniera fine e specifica su questa situazione. È evidente che ormai e anche qualche virologo sta cercando di rifarsi la vergilità dicendo che il Super Green Pass non ha più senso, si sta andando verso una situazione di normalità, ma è normale che per la mia categoria. Quello che non si capisce è perché è solo da noi, io veramente giuro, non riesco a capire perché è solo da noi. Quando tu hai Confindustria, le associazioni di categoria del nostro settore, quindi Confcommercio e Confesercenti, che applaudono il governo nel momento dell'entrata del Super Green Pass e oggi fanno i comunicati stampa per dire che le nostre attività sono in sofferenza. Ma quando è entrato il Green Pass, perché non ci sono venuti dietro e non hanno contestato come noi quella misura dicendo che noi non siamo poliziotti e che all'interno del ristorante si poteva tranquillamente entrare con un'autocertificazione come proponevo io, si svegliano oggi. Quindi quando tu hai un governo che ha il supporto nell'entrata di misure restringenti come questa, che ha le associazioni di categoria o presunte tali che le appoggiano, è naturale che poi dopo si vede a questo punto. Però rimane la domanda perché le associazioni di categoria esistono in tutti i paesi, esistono in Gran Bretagna, esistono in Francia, esistono in Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca eccetera eccetera. Perché lì tolgono le restrizioni, tolgono i divieti, tolgono il Green Pass dove l'hanno messo, perché in Gran Bretagna neanche l'avevano messo, insomma avevano messo solamente per i grandi eventi, insomma con migliaia di persone, perché lì tolgono tutte queste restrizioni e da noi invece no? Le associazioni di categoria ci sono anche là, perché da noi sì? Ma non funziona il sistema della difesa della categoria, non funziona come in Italia, nel senso che qui in Italia tu sai bene che gira tutto intorno ai contratti collettivi nazionali che sono controsiglati da CGL e Cisle Will e quindi siccome qui le associazioni di categoria hanno in gestione determinati settori, per esempio la formazione è uno, in continuità con le associazioni e organizzazioni sindacali, questa roba è naturale che fa saltare gli schemi. Noi oggi dobbiamo essere in grado di reagire non più come categoria, ma di reagire come italiani, non possiamo più accettare queste imposizioni caro Stefano in un momento nel quale gli ospedali si stanno svuotando e chi contrae Omicron ha nemmeno un colpo di tosse e ripeto parla uno che ha perso un fratello per il Covid che è vaccinato, tanto per essere chiari a chi romperà sicuramente i coglioni dicendo che io sono un complottista, no vax e così via. Basta. Io sono uno che ragiona con la testa e siccome ragiono con la mia testa ragiono in funzione dei dati e siccome i dati economici oggi sono molto più allarmanti di quelli ospedalieri, io dico che la nostra situazione e la situazione economica genererà molti più danni rispetto a quelli che ha prodotto la pandemia. Questo è un dato allarmante che noi abbiamo registrato nel solo gennaio 2022, primo mese, con un meno 55% di fatturato e questa roba significa non far arrivare soldi perché se io non incasso non incassa nemmeno lo Stato, non verso l'IVA, non pago le tasse, non pago l'addizionale comunale sui redditi, non pago tutta una serie di cose che servono a gestire i servizi essenziali dei comuni e delle regioni. Quando lo capiranno gli italiani forse sarà troppo tardi. Sì, nel frattempo aumentano i prezzi dappertutto, si parla di una riduzione, poi tra l'altro evidentemente ci sono reazioni a catena perché se per fare la spesa e per pagare le bollette ti va via più di mezzo stipendio è chiaro che tu al ristorante non ci vai più, a mangiare la pizza non ci vai più. Esatto, tagli il superfluo, come diceva giustamente Conto che noi eravamo superflui. Stefano io ero qui da te, te lo ricorderai, tu sei testimone tre mesi fa, quando io ripetevo continuamente il discorso della variante imprese coniata da me un anno fa, è arrivata, si è abbattuta su di noi e sta facendo i danni con la motopala. Tre mesi fa io ero qui a dirti che il dato che Draghi dava del 6,5% di PIL sul 2022 era farlocco perché c'era una inflazione che galoppava, te lo ricorderai perché l'ho detto qui da te. E questa cosa si è puntualmente avverata, io non sono né laureato alla London Economics School né alla Bocconi né a Harvard, io sono uno che vive di vita reale, che sa fare i conti della propria azienda e che sa che significa portare avanti un'azienda con 14 dipendenti a Viterbo. Quindi questo significa evidentemente che chi sta in quei palazzi ragiona in altri modi e con altri parametri che sono lontani a me luce dalla realtà drammatica che stanno vivendo i cittadini italiani. Un dato di fatto, tra l'altro sentiremo nel corso della trasmissione tra pochissimo anche il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio che ci darà proprio i dati precisi degli aumenti delle bollette di elettricità e gas e di quanto influiscono, attenzione, aumentano i beni primari, il pane sta aumentando di prezzo in maniera spaventosa perché i panificatori devono avere dei forni elettrici accesi praticamente a H24 e quindi la bolletta diventa enorme e si scarica sul bene primario fondamentale dal punto di vista alimentare che è il pane, cioè il pane sta diventando una roba da ricchi, ma ti rendi conto? Non solo per quello Stefano, a parte che la farina è aumentata di 25% nel giro degli ultimi quattro mesi, ma c'è un motivo oltre… Ma perché anche là c'è una componente energetica per esempio nella macinazione? No, non solo quello, non solo quello. Il trasporto, l'aumento dei carburanti, eccetera eccetera. Esattamente, bravo, ma soprattutto c'è un fatto, siccome l'Italia non ha la possibilità di produzione di farina tale da poter soddisfare la richiesta interna, tanta farina arriva dal Canada, dagli Stati Uniti e così via. Ti ricordi quando parlavo dei container che erano aumentati da 4 mila dollari a 14 mila dollari? Questi 10 mila dollari in più a container che servono per fare le attraversate dell'oceano, dove vanno a finire secondo te questi costi? Scaricati sulla materia prima. Ma è evidente, ecco che un chilo di farina non lo paghi più 75 centesimi, ma lo paghi 90, 95 e addirittura se sono farine pregiate anche 100, 110 centesimi. E questo è il punto. E questa evidentemente chi sta a 15 mila euro al mese al Parlamento, ma secondo te si preoccupa se il chilo di farina aumenta di 10, 15 centesimi? Ma sa che gli frega? Ma manco lo sanno. Non lo sanno. Lo sa chi va a fare la spesa. Si vede l'aumento della pasta. Lo so io, io vado a fare la spesa e quindi lo vedo. L'aumento è quasi giornaliero. Tu sei una persona comune come me e come tutti quelli che magari ascoltano Radio Radio e come tutti i miei colleghi che lavorano dalla mattina alla sera. Ma io ti ripeto, noi siamo nel peggiore momento economico e sociale della storia del dopoguerra gestiti dalla peggiore classe politica. Questo è il punto. E il bello è che tutte le volte si dice che siamo noi il faro dell'Occidente, il faro dell'Europa, siamo i migliori, eccetera, eccetera. Sì, per alcuni aspetti sì, ecco perché hanno chiamato Draghi a mettere liquidazione all'Italia in modo tale che ci comprano tutto quello che disano è rimasto. Questo sicuramente, ma a livello politico sicuramente non siamo un esempio da seguire. Sicuramente no. Paolo Bianchini, grazie. Buona serata, buon lavoro.